secondo il settimanale chi l'imprenditore e la conduttrice avrebbero ritrovato l'amore ma ad alcune condizioni tra le coppie che si separano una sembrerebbe essersi messa di nuovo insieme tomaso trussardi e michel unziker sarebbe tornati insieme dopo mesi divisi durante i quali spesso non si sono neanche parlati molto ecco che il settimanale chi afferma con fermezza che l'imprenditore e la conduttrice sono di nuovo una famiglia a fare il primo passo sarebbe stata michel ma tomaso non la voleva agli amici tomaso confessò che non gli era nemmeno andata giù l'apparizione forse un po forzata televisivamente forzata di michel e del suo ex eros ramazzotti michel però è riuscita dopo che aveva compreso quanto trussardi le mancasse a riaprire il dialogo essendo sempre molto presente e mandando molti messaggini e adesso sarebbero di nuovo una coppia secondo chi però tra i due al momento sarebbe tomaso a gestire la relazione imponendo bocche cucite stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv niente immagini di famiglie allargate tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa che trussardi non sia un grande amante dei social è evidente sul suo profilo instagram condivide solo lo stretto necessario e quindi non è poi così difficile pensare che quanto scritto dal magazine rappresenti la verità dei fatti tomaso e michel si sono detti addio all'inizio di quest'anno dopo dieci anni d'amore e due figlie celeste e sole l'addio ufficiale era arrivato con una nota congiunta dopo settimane di indiscrezioni sulla crisi in corso nel corso dei mesi i due si sono rientrati in occasione di riunioni familiari come le feste di compleanno delle bambine senza lasciar mai intendere eccessiva tensione nel frattempo lei ha avuto una relazione col chirurgo giovanni angiolini che però è presto finita nel giro di un paio di mesi lui ha invece smentito qualsiasi flirt che nel tempo gli è stato attribuito compresa una fantomatica liaison con un assistente di elisabetta franchi così come ha smentito le tensioni con aurora ramazzotti figlia di michelle pare però che anche nel loro caso certi amori fanno giri immensi e poi ritornano per usare le parole di antonello venditti soprattutto se michelle è così decisa a tornare potente dipone cominta semplice ども dipone dipone coprit dipone Grazie a tutti Grazie a tutti